E' lo schedatore più giovane di tutti e anche il relatore più giovane, credo. Enrico Tonin, che è stato l'ultimo dei catalogatori coinvolti in questo progetto e che ci ha dato una mano importante anche nella organizzazione e nella preparazione della mostra tuttora in corso, mettendoci anche del suo e delle idee. Davide Apolloni è uno studioso invece ormai con grande esperienza che ci ha dato una mano importante soprattutto al momento di questa mostra di valorizzazione di Pietro e Francesco Monaco del 2014. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito di partecipare a questa giornata di incontro e di studi dedicata all'incisione del Settecento e in particolare approfondisco l'aspetto su Pietro e Francesco Monaco e soprattutto ho voluto dare un taglio particolare a questa presentazione più che studio che mi appresto a fare oggi e che è relativo all'aspetto appunto legato a Belluno, legato alla città di Belluno, legato agli artisti che avevano legami con la città di Belluno e appunto volevo iniziare con una riflessione ma la linea guida di questo intervento sarà relativa alla figura di Pietro e Francesco Monaco ma anche di Luigi Alpagonovello che sarà un po' la guida, come dicevo, di questo mio intervento. Quindi inizio, scusate la presentazione, ecco qua questa è un'immagine della città di Belluno e volevo partire con una citazione che poco ha a che fare con Belluno ovviamente, no? Però una citazione che risale al VII-VI secolo a.C. Io so che qualcuno nel tempo conserverà di noi memoria ed è un po' questo il concetto del museo, il concetto della raccolta, il concetto della collezione, no? Quello di avere memoria delle cose, delle opere d'arte in questo caso, delle incisioni nel caso appunto di Luigi Alpagonovello ma una memoria che si trasmette, l'abbiamo ben visto prima, no? Con questi passaggi, quindi l'idea che la memoria diventa da privata a collettiva da soggettiva a statale, quindi da memoria legata alla casa, ad una famiglia a memoria della città e in questo caso appunto è proprio memoria legata alla città di Belluno. E il nostro Luigi Alpagonovello appunto nella sua fondamentale pubblicazione sull'incisore bellunesi inizia così, scrive Mi è accaduto più volte di pensare che, fatte le dovute eccezioni, non certo numerose, neanche a Belluno si sappia che questa città diede, specialmente nella seconda metà del Settecento, una schiera di operosi e abili incisori che esercitarono con lode l'arte loro, particolarmente a Venezia. E questa, diremo, questo mio intervento su Pietro e Francesco Monaco riprende un po' il punto di partenza a cui si riferiva prima il conservatore del museo appunto da Eniston e partiva con il suo arrivo nel 2014 con una mostra dedicata alle incisioni del fondo al Pagonovello a Pietro e Francesco Monaco e oggi chiudiamo un po' anche con questo suo addio, diremo, o arrivederci insomma al museo di Belluno, sempre parlando di Pietro e Francesco. E in questo caso vi voglio proporre, velocissimamente, naturalmente non ve ne farò una storia, l'albero genealogico che ho ricostruito nello studio di Pietro e della sua famiglia. Quindi Pietro Monaco, che è il più noto tra i due fratelli, lui appunto, e Francesco, nasce a Belluno, è una famiglia di origine zoldana, la sua però nascerà a Belluno come il fratello Francesco e tra le altre cose poi appunto vedremo l'intervento dedicato anche ad Antonio Baratti. Antonio Baratti sposa la cugina di Pietro Monaco, cioè Valentina Monaco e in particolare poi tutte queste mogli diventavano anche collaboratrici di bottega perché poi Valentina diventa anche colei che incideva i caratteri all'interno delle incisioni dove troveremo appunto le iscrizioni nelle varie incisioni. Lo stesso Pietro Monaco sposerà Marina che è la figlia di Bartolomeo Crivellari, altro incisore insomma. E quindi c'è tutto un intrecciarsi di elementi in questa comunità di bellunesi che poi vanno a finire a Venezia, lavorano insieme e costituiscono una specie di grande famiglia collaborativa e che lavora appunto assieme. Ma andiamo a vedere appunto le vicende di Pietro Monaco. Molte sono descritte nel volume che ho pubblicato vent'anni fa, diremmo, nel 2000 appunto dedicato a Pietro Monaco e anche il nostro Luigi Alpagonovello descrive questa collezione, ne parla e io sono partito proprio da questa descrizione che ne faceva lui e parla di questa collezione e descrive quest'opera artistica. Dice quest'opera artistica ebbe diverse edizioni e come dicevo vorrei avvalermi appunto di questo volume sugli incisori bellunesi di Alpagonovello. La prima fu procurata dallo stesso autore e qui ne riferisce il titolo esatto, raccolta di 55 storie sacre incise in altrettanti rami con le loro spiegazioni, con la dichiarazione del possessore di quadri e dell'autore di Ciascheduno, divise in tomi 5, ossia parte prima, quindi erano a metà, degli tomi 10 al compimento dei quali si darà la prefazione dell'opera intera, di Pietro Monaco, Venezia, 1743. Quindi una serie di incisioni che non nasce come volume ma che per la mole di lavoro e per i soldi che dovevano impegnare appunto queste opere nasce come una specie di abbonamento e ci si sottoscriveva questa sorta di abbonamento con i soldi che si pagavano, si lavorava, si acquistavano i rami, si poteva lavorare appunto alle incisioni e qui vedete i vari fascicoli che venivano redatti, la prima incisione di ciascun fascicolo è quella con l'asterisco qui a lato. E nel museo di Belluno, nel fondo Alpagonovello, si conservano gran parte di queste incisioni sciolte, in questo caso dedicate alla raccolta, questa è una cornice all'interno della quale viene inserito la riproduzione appunto del dipinto perché in realtà questa cornice del 1739 che viene realizzata su disegno di Giambattista Crosato e il nostro Ton è un noto esperto e autore di una bellissima monografia appunto su Crosato e questa copertina, diremo, era la copertina del volume delle stampe pubblicate fino al 1739. Un'edizione successiva, presumibilmente nel 1745, con il disegno questa volta ideato da Agostino Colonna della cornice, vede realizzate 77 stampe, quindi stiamo andando, questa è la cornice per le incisioni di apertura delle seconde aggiunte, quindi i due fascicoli aggiunti e questo è il catalogo appunto delle 77 stampe, quindi inizia a pubblicare nel 43 la prima metà, poi si va avanti, si arriva a 77 e poi si arriverà a 112 stampe, una versione che esce in due modalità diverse. Allora questa che ci dice raccolta di 112 stampe di pittura della storia sacra, quindi riproduce tutti o meglio gran parte dei dipinti importanti che erano le collezioni private veneziane del 1700 e questa è la cosa fondamentale di questa raccolta, non tanto magari la tecnica incisoria o la bravura dell'artista, ma soprattutto il fatto che abbia riprodotto i dipinti che al tempo erano Venezia, che adesso in parte sono dispersi, in parte sono in giro per il mondo, in parte sono finiti in collezioni e musei anche privati e infatti vedete fedelmente copiate dagli originali esistenti in Venezia, di celibri autori antichi e moderni. Questo aspetto di collaborare con artisti moderni Piazzetta, Tiepolo, Ricci, era molto importante perché era come se oggi si facesse una raccolta di riproduzioni di quadri di artisti contemporanei, quindi l'ottica è completamente diversa rispetto a quella che solitamente veniva ad essere utilizzata. Qui vi ho messo l'esempio dell'edizione con il testo, quindi a sinistra l'incisione e a destra la descrizione in latino a metà e in italiano dall'altra parte. E la seconda versione, sempre nel 63, è questa in cui ci sono solamente le immagini e non le storie raccontate. Il catalogo quindi completo vede la presenza di numerosissimi artisti contemporanei, amici di Pietro Monaco ed è lui stesso collezionista di opere, disegni soprattutto anche di Gian Battista Tiepolo e poi ci sono opere di Piazzetta, opere di Sebastiano Ricci e adesso vedremo alcuni aspetti molto velocemente, ovviamente non c'è né il tempo né il modo di presentare e non è neanche questo il luogo per presentare la raccolta. Parlavo prima di Bortolomeo Crivellari, il volume si apre con una sua incisione e continua con dei personaggi bellunesi, la incisione seguente è questa con la figliola d'Erodiade con la testa di San Giovanni Battista e il riferimento è alla pittura di Tiziano, quindi grande notissimo artista bellunese che rivediamo anche nella incisione seguente con Maria Maddalena Pentita, queste sono tutte incisioni che ho ripreso e che abbiamo qui al museo di Belluno e poi anche altri personaggi come l'Abbano in colloquio con Rachele che viene presa da un dipinto di Giuseppe Zais, un paesaggio di Zuccarelli e anche dei dipinti, qui metto alcune cose a livello di conoscenza appunto legati a Sebastiano Ricci, non a caso adesso il nostro, dico nostro, il museo di Belluno ha una bellissima area dedicata a questo artista anche con una acquisizione molto recente dovuta anche al conservatore Denis Ton che ha creato anche questo allestimento. Quindi una natività di Gesù, un Angelo Custode, questo dipinto si trova ancora a Venezia nella chiesa appunto dell'Angelo Custode e la regina Esther davanti ad Assuero, quindi tutte incisioni che ripropongono tra gli altri anche degli artisti bellunesi e qui abbiamo anche un aspetto, passiamo ad altro, legato alla ritrattistica, alla ritratistica di personaggi che hanno a che fare appunto con Belluno. Difatti dice il nostro Alpagonovello, oltre a questa ampia raccolta la quale diede fama al Monaco, molte altre stampe egli incise, fra esse parecchi ritratti. Io ne possego parecchi e li elencherò con gli altri che sono a mia cognizione. Mi limito a dire che è specialmente bello quello del bellunese Gasperi Diziani e che è raro l'altro inciso nel 1749 da un dipinto di Bartolomeo Nazari che è questo ed è il ritratto della Contessa Paola Rubbi che è l'antiporta del volume private avventure di una donna di spirito e poi siccome il libercolo era un po' particolare e in alcuni aspetti poteva diventare offensivo lo hanno distrutto, ne sono rimaste solamente due copie e questo appunto è legato anche alla rarità di questa incisione. Esiste anche una serie di ritratti legati al volume dei celebri pittori della scuola veneziana eseguiti da Pietro Monaco. Qui abbiamo Giuseppe Valeriani, Francesco Polazzo e Angelo Trevisani e questi sono quelli che abbiamo qui presenti al museo di Belluno ma il nostro Pietro Monaco ha anche delle testimonianze di viaggi e dice anche in altri generi si esercitò il bulino del nostro. Nella mia raccolta ho per esempio alcune vedute di Roma e sono queste la veduta appunto del ponte di Sisto IV, una veduta del prospetto del palazzo al Quirinale, una veduta della parte appunto del Colosseo e un'altra veduta dei fori imperiali e poi dice nonché due rari paesaggi toscani e secondo lui implica il fatto che sia andato anche in Toscana. Qui vi metto dei particolari delle vedute perché a volte le stampe non erano integre, cioè quello che trovava se gli piaceva lo comperava e qui vi mostro un esempio di integrazione di una delle stampe delle vedute di Roma. Allora sopra manca appunto la parte, è stata integrata a sua volta, lo vediamo sul retro, da un'altra stampina che è stata utilizzata come elemento di riparazione. Queste sono le stampe toscane che sono legate al volume vedute delle ville di altri luoghi della Toscana, edito da Zocchi, scusate, edito da Zocchi nel 1744 che ha realizzato i disegni preparatori. Qui ce n'è un'altra, una veduta di un paese sul fiume Arno e sono queste due che cita il nostro al pago novello. Per quanto riguarda Francesco invece lo potremmo, anche se non è certa la sua, non tanto la nascita ma la sua dipartita da Belluno, non si sa quando si è partito, quanto si è rimasto, si sa che è andato a Venezia, che ha lavorato col fratello e è importante il saggio che Enrico Denard ha fatto appunto su Francesco e che ha chiarito definitivamente che si trattava del fratello effettivamente di Pietro Monaco e il nostro al pago novello lo descrive così. Egli merita di essere ricordato, almeno dai bellunesi, perché è all'arte sua di disegnare e intagliare che essi devono la conservazione di parecchie interessanti memorie della loro storia. Quindi lui è il protagonista della descrizione grafica della città di Belluno. E adesso andiamo a vedere anche il perché. La mappa, la pianta della città, l'abbiamo vista ed è una veduta appunto dall'alto della città di Belluno. Il problema delle incisioni di Francesco è che non si sa bene quando siano state fatte, non hanno datazioni precise. Probabilmente lavorava a Venezia col fratello ma veniva anche a Belluno per eseguire opere di questo tipo o rifacimenti di elementi che adesso andremo a vedere. Il Denard attribuisce a Francesco Monaco questa incisione che mostra il campanile della cattedrale di Belluno e dice che presumibilmente la potrebbe aver fatta proprio Francesco. Ma abbiamo tutta una serie di rami, cioè di lastre, che sono praticamente la matrice dell'incisione che abbiamo la fortuna di avere qui conservate al museo e che quindi sono anche l'opera incisoria vera e propria sulla quale l'artista ha lavorato per realizzare poi la fonte e la matrice su cui si andava a poggiare la carta per acquisire l'inchiostro e per avere riportato appunto il disegno. E del Duomo abbiamo una, questa è la lastra, quindi il rame lo vedete praticamente al contrario come fosse un negativo fotografico e questo è relativo all'organo del Duomo di Belluno e lui ha fatto anche una serie di frammenti, di elementi che c'erano a Belluno, alcuni sono andati a persi, tipo il terzo, il frammento di lapide funeraria, si trovava a Tricchiana e poi è andato disperso e qui c'è tutta una serie di testimonianze legate all'antico, quindi frammenti di lapidi ma di cose esistenti nel Bellunese che lui attraverso le incisioni ha realizzato. Forse incisioni che erano destinate ad un libro perché vedete che sopra ciascuna immagine c'è l'iscrizione figura puntata ma non hanno scritto il numero perché probabilmente poi non è finita l'opera. Ha realizzato anche dei ritratti di personaggi famosi, qui abbiamo appunto il Doglioni e sotto il ritratto di Gregorio De Pilono e abbiamo a che fare appunto anche oggi con i nomi di questi personaggi. In particolare abbiamo Porta Doglioni di Belluno che lui ha inciso e qui abbiamo appunto la lastra, altra testimonianza della bellunesità che viene raffigurata appunto da Francesco Monaco e tutta una serie di palazzi, i palazzi dei nobili bellunesi del Settecento che vengono da lui descritti minuziosamente attraverso soprattutto la realizzazione di bellissime acqueforti e in questo caso abbiamo il palazzo di casa Pacani Cesa con tutta una serie di figurine che si affaggiano a balcone o che passano, quasi si trattasse di una immagine, di una foto in cui le persone si mettono in posa e si affacciano le finestre del palazzo. Qui vi mostro un dettaglio per vedere anche la tecnica, la delicatezza, la morbidezza del segno che veniva utilizzata da Francesco Monaco. Andiamo a vedere altre immagini, il palazzo dei signori Miari e Piloni, una vera e propria reggia, lo vedete qui, altro palazzo dei signori Campelli con la carrozza sulla sinistra, la vediamo qui meglio, e con la firma Francesco Monaco dell'Ineavit e Sculpsit, quindi ha creato il disegno per l'incisione e poi l'ha scolpito, cioè inciso nel rame, nella lastra che come dicevo è tra le cose che abbiamo la fortuna di avere ancora. E poi ci sono altri palazzi, il palazzo dei signor Grini e anche qui vedete che le modalità di firma possono essere diverse, estese, puntate e comunque il cognome rimane Francesco Monaco, era stato confuso invece inizialmente dall'Alpago Novello con del Monaco o del Monego, quindi con un'altra famiglia e con un altro atto di nascita. E altra immagine appunto il seminario dei Chierici oppure il collegio dei padri della Compagnia di Gesù. Anche qui siglato FM in questo caso, quindi con le iniziali appunto del nome e del cognome, ma volevo fare una puntualizzazione perché si diceva prima e giustamente diceva prima il dottor Marini che le stampe vanno viste e io le avevo viste tanti anni fa, ma sono tornato a vederle in occasione di questo incontro e sono andato a vedere le stampe un po' in generale, quindi fronte, retro, iscrizioni, mi sono preso questo lusso visto che avevo modo e tempo di farlo. In quest'ultimo trentennio, scrive l'Alpago Novello, ho voluto raccogliere quante più stampe degli incisori bellunesi ho potuto trovare in tutte le città che visitai, dal Veneto a Roma. E allora, qui abbiamo una veduta di quelle che abbiamo visto prima di Roma, a fianco una incisione che fa parte della raccolta appunto di Pietro Monaco e alcune stampe dietro hanno delle indicazioni, queste hanno la numerazione 15 meno meno entrambe, non so, forse una valutazione, un prezzo, non si è capito ancora, però parecchie stampe riportano delle numerazioni che le rendono omogenee, 15, 25, 30, ma volevo farvi vedere una cosa curiosa che è questa iscrizione, che adesso andremo a vedere in dettaglio, che si trova dietro la stampa della veduta romana, nella quale in alto a destra trovate una scritta matita, domani mattina alle 4.05 pomeridiana, poi si gira la stampa, viene qui e lo conduco in famiglia a vedere stampe. Quindi si prendevano anche degli appunti dietro a queste incisioni, ci sono un po' queste testimonianze divertenti, grafiche del collezionista che ospitava amici, collezionisti che andavano a trovarlo e a vedere la sua collezione. Altro raffronto tra queste due che fanno parte entrambe della raccolta e queste sul retro hanno un monogramma e una numerazione, una AC, quindi facevano parte probabilmente di una collezione privata e nell'acquistarle rimane questo aspetto della collezione precedente, come rimangono dei timbri di acquisto qui a Milano, quindi Lissoni, fotoriproduzioni, Piazza Duomo, Milano e a sinistra un'altra con un'altra iscrizione, non è sempre dello stesso, Incisioni, Acqueforti, Stampe, Lissoni, Milano. Il nostro artista non si limitava, il nostro collezionista scusate, non si limitava appunto a questo ma a volte indicava anche dove le aveva comprate se non c'era scritto ed è il caso di questa di San Girolamo nel deserto, nel fondo della stampa ha incollato un ritaglio 347, Piedro Monaco, San Girolamo nel deserto, da Giovanni Liss che ha appunto realizzato il dipinto e qui c'è scritto che ha partecipato ad un'asta a Roma nell'aprile del 1922 e da quest'asta ha acquistato la stampa, quindi gli interessava anche avere un po' queste indicazioni da collezionista, dove ho preso il pezzo, dove l'ho acquistato e questa raccolta di Luigi Alpagonovello è particolarmente importante per tutte le varie testimonianze che ci dà non solo dal punto di vista artistico ma anche e soprattutto poi dal punto di vista storico della collezione e delle vicende di queste incisioni. Lui dice potei ad ogni modo riunire tante stampe trasciolte in libri da farmene una collezione più che bastevole per una completa conoscenza degli artisti bellunesi, dell'acqua forte e del bulino e tra questi anche Pietro e Francesco Monaco. Grazie a tutti.